...per esprimere quello che hanno dentro Allora, Sara e Federica Perché proprio questa canzone? Siete fan di Damino Vato? Io sì Ok, io sì A me piaceva il basso Ti piaceva, ti piace il ritmo perché è lega, è bella Studiate canto per caso? Io sì, da tre anni E tu invece? Niente Però sei la più appassionata, te lo leggo negli occhi Va bene, allora io vi lascio voi e il pubblico A questa divertente esibizione di app Da parte di Sara e Federica Con il supporto della nostra band SpazioWeb.band Grazie Grazie a tutti 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 Grazie a tutti